Vallo di Diano, Salerno. Oggi per la serie, la storia infinita della contrada di Collodi, ascoltiamo il servizio di Pietro Cusati. La telenovela del ponte Tanagro, ubicato a Cagliazzano di Padula, chiuso al traffico dal mese di ottobre del 2021, si allungano i 175 giorni necessari per i lavori di rifacimento, perché? Dopo tre anni si scopre l'acqua calda ovvero l'uovo di Colombo, che il ponte è in prossimità di un'area archeologica di un possibile tracciato viario di età romana. Chi è era a conoscenza della richiesta della soprintendenza di indagini archeologiche? Perché il ponte, dopo tre anni, non è stato ancora interamente demolito? I cittadini del Vallo di Diano e non solo, continuano a subire da tre anni danni gravi e irreparabili, determinati dalla illegittima chiusura del ponte Cagliazzano ubicato nel comune di Padula, senza la prova di carico, prevista per legge? Era sufficiente il senso unico alternato con semaforo ed inibito a mezzi pesanti? I cittadini attendono risposte.